E' un'opera d'arte e nessuno l'ha capito. In questi luoghi è proprio la disuniformità a creare l'elemento onirico. E' proprio l'irregolarità di questo pavimento, l'irregolarità di questo tavolo, l'irregolarità di questo muro a creare l'elemento emozionale di questi luoghi. I sassi di Matera sono uno spazio geografico che si è fatta storia. E' il valore di una esistenzialità geologica. Questo è Matera. Matera non è vecchia. Matera è sempre esistita. E' una delle città più antiche al mondo. Matera è donna. Non si discute. E' madre. La storia della città di Matera non è quella delle grandi imprese, battaglie, eroi generali. E' ogni pietra. E' la storia raccontata in ogni pietra. La storia raccontata in ogni pietra.